dopo onda concordia abbiamo schettino schettino si è fatto il mercedes schettino ha fatto le ospitate e si è fatto il mercedes è mercedes e station concordia è schettino è schettino alla guida non si è mai vista o pensa 600 kg lo schettino della situazione perché depresso ha mangiato con fiatra mignotta oppure in quanto fiatra mignotta e basta incapace ha messo di traverso pure questa un bel pitale un bel teutonico io forse andrei a fa prima che cambia bottigliettori e va a revisione di questa macchina che dici questa manco in albania questa manco in polonia questa a cracoglia da restano è mercedes prodotto teutonico station schettino stai non c'è la sconcordia secondo te stiamo male e metti la freccia a sinistra che si si corre che è un altro po' poi a destra schettino c'è niente da fare se sei schettino senza speranze questo se la mette per il cappello oddio 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 mi fa paura questo ma chi non ma hai giocatio non non mi fa cristi ovvio oddio xd di giocatio destro Preparati